Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea, che analizza nel profondo il dolore e il suo superamento con onestà, empatia e delicatezza. La trama del libro Come fare amicizia col buio, della scrittrice Kathleen Glasgow, pubblicato dalla casa editrice Rizzoli, è la seguente. Tiger Tolliver vive a Mesaluna, località sperduta dell'Arizona, con sua madre June. È una ragazza di 16 anni che naviga tra le acque inquiete dell'adolescenza. Ha un'unica amica, indossa abiti assurdi che sua mamma recupera dagli scatoloni abbandonati a bordo strada. Suona la batteria senza avere idea di come si faccia, si vergogna del suo corpo. Spesso si sente come un insetto rinchiuso in un barattolo di vetro. June è una donna ansiosa, iperprotettiva, che si arrabatta vendendo ai turisti marmellate fatte in casa e guidando il bibliobus della contea. Nonostante qualche attrito, ci sono state sempre e sono loro due, e hanno sempre tirato avanti come una macchina ben oliata, carina e profumata. È un giorno di maggio pieno di luce, l'estate è alle porte e la scuola sta per finire, e Tiger ha appena dato il suo primo bacio quando riceve la telefonata che nessuno vorrebbe mai ricevere. Sua madre è morta all'improvviso, ora, in assenza di un padre o altri parenti che possano prendersi cura di lei. Tutto il suo mondo viene stipato in una valigia e spedito presso una famiglia affidataria, e poi un'altra, e un'altra ancora. Indiottita nel vortice dei servizi sociali, Tiger non vede una possibile via d'uscita dal dolore e dalla solitudine, almeno fino a quando la speranza si manifesta nella persona di Shaina, una sorellastra più grande e stravagante e turbolenta come un tornado. Vivere con Shaina è come vivere sulle montagne russe, e sarà proprio questo a dare a Tiger la forza per riemergere, poco alla volta, dall'abisso del suo cuore spezzato, a tirare fuori gli artigli, a fare amicizia col buglio. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.